Il momento è un progetto interessante perché avere meno automobili nell'ora di punta consente agli autobus di viaggiare più veloci, consente ai taxi di viaggiare più veloci, incentiva i cittadini a lasciare a casa la propria automobile e quindi poi una volta che il cittadino è lasciato a casa la propria automobile, magari all'andata può andare con un passaggio, a ritorno può prendere l'autobus, può prendere il taxi, può prendere il carciano. Quindi, come ho detto nel mio intervento, è importante lasciare a casa l'automobile privata e poi a quel punto si aprono un mondo di possibilità dove veramente tutti gli operatori possono partecipare.